L'AIFA ha autorizzato ieri l'utilizzo dei vaccini anche sui bambini dai 12 ai 15 anni. Noi siamo pronti e vaccineremo immediatamente tutti i bambini fragili della Puglia per fargli passare un'estate un po' più tranquilla e serena. Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, prima di avere la comunicazione ufficiale del Via Libera. Non appena l'EMA autorizzerà l'utilizzo dei vaccini anche sui bambini più piccoli, diciamo dai 12 anni in su, noi vaccineremo immediatamente tutti i bambini fragili della Puglia, tutti quei bimbi che hanno bisogno di questa tutela per ricominciare a uscire, a socializzare, a vivere normalmente, ad andare a scuola. Quindi verranno chiamati tutti dai centri che li hanno in cura e li vaccineremo in fretta in modo tale da fargli passare un'estate un po' più tranquilla e un po' più serena.